Riformuliamo gli elementi fondamentali di questo rapporto osservatore-oggetto osservato e l'intervenire dell'opera quale schermo a partire dalla prospettiva rinascimentale che dovrebbe in qualche modo raccordare, essere la traccia della sedimentazione di luoghi dove i raggi visivi attraversano questo schermo che è lo schermo dell'opera per cui abbiamo una situazione molto molto semplice, l'osservatore, l'opera e l'oggetto osservato la tecnica, il codice ottico che la prospettiva rinascimentale ci offre è una tecnica, un codice che sono pensati per consentire la rappresentazione realistica il più realistica possibile dell'oggetto della realtà ma questo desiderio di realismo che è la poetica evidente della prospettiva ha poi un coté, un retroimmagine forse un po' più espressivo, forse un po' più creativo che complica un po' le cose e lo abbiamo visto già dagli interventi di questa mattina in che senso li complica? nel senso che questi raggi visivi che partono in realtà dall'oggetto e giungono all'occhio dell'osservatore sono anche raggi visivi che sono proiezioni ideali di uno schema ottico che parte dall'occhio e arriva all'oggetto è detto in maniera molto più semplicistica e molto meno esatta da un punto di vista scientifico quello che abbiamo ascoltato questa mattina dal professor Rovelli per cui è una specie di gioco di proiezione incrociata all'interno del quale, all'incontro di queste duplici proiezioni incrociate c'è anche questa realtà che è la realtà dell'opera che sembrerebbe lo schermo su cui si depositano le visioni ma in realtà è a sua volta uno schermo che proietta il proprio codice ottico sulla realtà tanto quanto sull'osservatore perché dico questo? Perché se vi mostro un'immagine come questa una pianta di città cinquecentesca nella fattispecie Palmanova vediamo come lo schema ottico che doveva servire a rappresentare la realtà e per cui a congiungere osservatore e osservato sul piano della rappresentazione dell'opera è uno schema ottico che poi genera mondi in qualche modo in forma di sé la costruzione della realtà circostante ed è una realtà cittadina che viene costruita per essere letta in funzione della prospettiva rinascimentale è una specie di teatro pensato di quinta teatrale pensata per il trionfo della tecnica ottica che doveva leggere il reale per cui è una proiezione inversa e forse vi ricordate lo vedremo subito dopo con Giulio Pauini quell'immagine di quel volto di Lorenzo Lotto l'opera del 1505 per dire mi riferisco all'opera di Lotto non all'opera di Giulio quell'opera è un volto che sembra disegnato per darci l'immagine del perfetto uomo rinascimentale che si affaccia alla finestra del Leon Battista Alberti è un volto che è fatto di pura geometria dove le orbite degli occhi sono riportate dalle sopracciglia e la fronte è riportata dal cerchietto di velluto che il ragazzo indossa e il mento risponde ad una stessa simmetria geometrica il collo è un perfetto cilindro insomma questo schema questa tecnica ottica che doveva consentire di vedere il reale di rappresentare il reale così com'è diventa un motore che crea il suo osservatore che modella, plasma il suo osservatore tanto quanto modella il mondo osservato o almeno in parte ecco questa è una duplice ricostruzione delle tavolette prospettiche di Brunelleschi che sono andate perdute ma dalle descrizioni dei documenti storici che ne abbiamo possiamo immaginare che funzionassero più o meno così Brunelleschi fece questa rappresentazione una cittadina della invenzione della tecnica appena raggiunta chiese ai fiorentini e si mise lui stesso per primo con le spalle al portone di Santa Maria del Fiore e guardando esattamente di fronte a sé intercettava l'immagine la presenza dell'edificio del Battistero e che cosa fa? chiede allo spettatore, all'osservatore non di guardare il Battistero ma di guardare uno specchio che deve essere posto davanti a sé tenendo il braccio un po' steso e su questo specchio l'osservatore vede la rappresentazione il disegno prospettico del Battistero il dipinto prospettico del Battistero perché era anche una riproduzione ovviamente cromatica e perché gli chiede di fare questo gioco un po' complesso di non semplicemente porre davanti a sé la rappresentazione prospettica del Battistero e poi confrontarlo con il Battistero immediatamente lì perché voleva l'esattezza visiva della coincidenza dei raggi prospettici si che nel fare un movimento di stogliere lo specchio davanti al proprio asse visivo immediatamente sarebbe comparso sotto il Battistero reale e avrebbe mostrato la perfetta coincidenza la sovrapposizione tra la sua immagine pittorica e la realtà bene allora noi stiamo parlando di una tecnica che ci dovrebbe consentire di riprodurre esattamente il reale che stiamo osservando ma c'è un però c'è un però perché ci sono altri due elementi di questa storia che vanno raccontati il primo elemento interessante sono le nuvole in alto c'è una teoria molto famosa di Damisch che se ne è occupata che ha preso spunto da questa immagine che cosa fece? Lunelleschi non mise in prospettiva le nuvole perché le nuvole sono l'informe sono quella parte della realtà in qualche modo non digeribile dalla regola ottica della prospettiva dalla regola geometrica e per cui invece di riprodurle utilizzò una superficie specchiante d'argento perché le nuvole apparissero come riflesso e non come pittura per cui c'è qualcosa c'è un un senso del due persino in questo momento di ricerca del larismo un senso del due cioè un senso del mondo del dato naturale reale che non è perfettamente digeribile o annullabile nella creatività dell'artista ma c'è dall'altra parte esattamente in senso simmetrico una presenza dell'artista sovrabbondante e perché lo dico quella frasetta che non è la didascalia dell'immagine ma è una citazione ogni dipintore dipinge se storicamente è attribuita a Brunelleschi poi è stata formalizzata da Cosimo il Vecchio però pare che il contenuto il concetto che girava ed era molto famoso per Firenze nel 400 fosse di Brunelleschi allora lo stesso autore che ci fornisce lo strumento per riprodurre il reale nel modo più esatto possibile è anche quello che è perfettamente consapevole che la sua presenza di soggetto creatore è ineliminabile all'interno dell'opera e in fondo è l'ultimo contenuto dell'opera stessa o così sembra ritenere Brunelleschi e allora nel nel 500 non troppo dopo troviamo anche delle rappresentazioni come questa di Merte von Hemskerk spero di averlo pronunciato in modo accettabile che è una rappresentazione di San Luca e perché ha colpito la fantasia anche di studiosi come Stoichizza l'ha colpita perché San Luca era il pittore ma inteso come pittore che rappresenta l'immagine sacra per ispirazione divina a volte San Luca accompagnato da un angelo che guida la mano come San Matteo per il Vangelo altre volte è chiaro che l'epifania dell'opera sul piano del dipinto del foglio da disegno è un'epifania che è come dire totalmente sganciata dalla capacità di San Luca medesimo ma è una rappresentazione una emanazione della potenza divina e allora perché questa questa rappresentazione è inquietante perché abbiamo quella presenza dell'ombra della mano dell'artista che è inusitata cioè c'è l'ombra di un corpo umano reale e fisico che si staglia sull'epifania divina è una cosa abbastanza inusitata ecco per il Cinquecento ed è talmente dettagliata anche nelle dita e tutto c'è questa connessione della mano che è chiaramente una dichiarazione di poetica qui il soggetto proietta se stesso nell'opera allora sì c'è l'epifania c'è la sacralità dell'arte che deriva dall'immagine divina ma c'è l'ombra dell'artista che è ineliminabile c'è un mito contrapposto all'ombra dell'artista dunque l'ombra dell'artista è un mito vastissimo io adesso non posso rievocarlo velocissimamente qui ma voi sicuramente conoscete quella a proposito di narrazioni quella narrazione che vuole che l'inizio della pittura sia avvenuta a causa di un'ombra la figlia del vasaio Butades di fronte all'amante che stava al fidanzato che stava per partire vede l'ombra del fidanzato da un lume di candela sul muro della sua casa e presa dalla futura nostalgia dalla futura assenza del suo amato traccia il contorno sul muro e quel primo tratto di contorno di un'ombra è l'inizio della pittura poi arriverà il padre che è un vasaio e da quell'ombra farà la scultura eccetera eccetera questo è il mito octonio femminile magico della pittura c'è un altro mito che è quello della proiezione della luce per cui il raggio luminoso dell'artista siamo non a caso in pieno illuminismo con l'immagine che state vedendo di di Ledoux che in qualche modo proietta come potrebbe proiettare una luce zenitale sul mondo proietta l'artista con la propria razionalità e con i propri principi ideali una luce che crea l'immagine perfetta l'immagine ideale del mondo e non più irreale per cui è l'altra proiezione la proiezione luminosa e però il gioco di rispecchiamento non viene meno nel senso che se prima abbiamo visto l'immagine di un occhio dedicata al teatro di Besançon al suo progetto del teatro musicale di Besançon dove il teatro questo panopticon si trasforma nell'occhio dell'artista nell'occhio dell'architetto creatore e quell'occhio diventa poi forma ideale che regola il cosmo per cui di nuovo ciò che nasce come ragione e ideale fa sì che ci sia una proiezione dei propri schemi che plasmano la realtà e l'intero cosmo che dovrebbe essere intitolato a Newton perché questo è un disegno mai realizzato è un progetto mai realizzato per il cenotafio di Newton per cui per lo scienziato della fisica classica lo scienziato della scienza classica del Settecento quello scienziato diviene questa sorta di immagine fantasmatica della luce e dell'ombra all'interno di un globo che allo stesso tempo è il cosmo ed è l'occhio umano torno qui soltanto per un attimo perché perché è curioso quel movimento che Brunelleschi si suppone chiedeva di fare al fiorentino è un movimento molto molto simile a quello che Magritte negli anni trenta fa con la condizione umana Magritte ci dice in questo dipinto in realtà io ho mostrato che il paesaggio naturale che è sulla tela è frutto della mia proiezione mentale tanto quanto quello di nuovo siamo sui discorsi sentiti che sta al di là di là di la finestra e quell'albero è perfettamente coincidente sovrapposto all'albero reale che c'è dietro perché ve lo mostro perché l'unico scarto immaginifico tra le due diverse proiezioni l'unico baluardo se volete del reale in questa visione che è totalmente surreale cos'è è quel profilo della tela quella materialità del supporto tecnico e cosa sono gli unici oggetti che hanno come dire corporeità che hanno solidità di corpo in questo dipinto sono gli oggetti che servono a presentare l'immagine le tende che hanno l'ombra come un sipario e le gambe del cavalletto l'unico altro elemento che hanno l'ombra e che sorreggono la presentazione dell'immagine e perché ve la faccio vedere perché qui c'è Giulio ma anche se non ci fosse stato questo è un altro passaggio imprescindibile quel profilo della tela che ci mostra la materialità del supporto a separazione sottilissima tra le due proiezioni è il luogo dove si appunta l'attenzione degli artisti all'inizio degli anni tra gli anni 60 e gli anni 70 e su quel supporto gli artisti vanno a in qualche modo testare controllare indagare qual è la realtà dell'opera e quali sono gli strumenti che loro utilizzano per proiettare loro stessi nell'opera o per ricevere e farsi strumento della proiezione del mondo nella loro visione e così come l'ha fatto Giulio nel 1961 nel 1971 un fotografo Ugo Mulas lo fece con la con la pellicola e questo è un omaggio a Nieps è un omaggio a Nieps che prevede la stampa a contatto dell'interno di un rullino fotografico posto sotto il vetro di cui vediamo il contorno e posto sotto l'ingranditore perché voleva fare un omaggio a Nieps Ugo Mulas perché Nieps era quello che aveva pensato che la pellicola sensibile la superficie sensibile che registra l'immagine fotografica fosse il luogo dove l'artista finalmente avrebbe potuto recedere fare un passo indietro e far sì che fosse la natura e la realtà ad impressionare l'immagine e per cui è come se quell'ombra mitica dell'artista che fosse luminosa o che fosse l'ombra di Butades è un'ombra che viene ad arretrare ma è soltanto un'illusione un'utopia che dura per pochissimo perché saranno proprio fotografi come Mulas nelle sue verifiche a mostrare che ancora una volta è vero la superficie il supporto tecnico il codice ottico utilizzato che ci si possa avvicinare al reale per tradurlo nella rappresentazione ma l'ombra dell'artista non viene mai meno e questa è un'immagine che la racconta lunga fra l'altro è un omaggio a Liffried Lander che è il fotografo che Daniele Sofattiva ha citato nella prima immagine che vi ha mostrato in questo caso si ha il telaio di una finestra retrostante da cui proviene la luce e uno specchio davanti al fotografo che crea questa duplice immagine di ombra e riflesso coperto nascosto dalla macchina fotografica questo è un gioco come la definì Paolo Fossati è un'occasione per cui Hugo Mulas usa un pistoletto per mostrarci il fotografo che nella sua preparazione doveva essere nella sua idea iniziale di Mulas doveva essere il testimone senza mai intervenire all'interno del campo dell'arte e che si mostra nudo lui nella sua posizione di interventista e se volete anche giocosamente di voyeur per cui tutt'altro che un testimone un testimone neutro Luigi Ghirri torneremo poi sul concetto anche dell'osservatore di spalle con Giulio Paolini una specie di schiacciarsi della prospettiva della fotografia che ingloba l'osservatore all'interno del campo di un'altra fotografia è come se Ghirri stesse osservando delle persone che prima di guardare quei monti che ci ha mostrato Carlo Rovelli dovessero imparare a leggerli attraverso il codice visivo della rappresentazione grafica prima si guarda la piantina e poi si guarda la realtà è quel famoso gioco per cui ad un certo punto di fronte a un meraviglioso panorama un osservatore del Settecento può dire che sia meravigliosamente pittoresco e nel dirlo è chiaro che legge la realtà attraverso il codice visivo della pittura in un'inversione di senso molto ricca un tramando ecco da Luigi Ghirri a Thomas Trout questa è una serie famosissima è abbastanza affascinante come i personaggi reali di questo scatto siano sicuramente i due passeggiatori di Caibot molto più che le due osservatrici perché le due osservatrici sono statiche e invece i parigini di Caibot sono vivi hanno tutta la qualità della vita e questo è un po' un gioco inverso ma molto simile queste fiumane di visitatori che passano attraverso le stanze di Raffaello le stanze della segnatura che diventano un fluire una folla che fluisce sotto lo sguardo vero reale e diciamo parmenideo dei personaggi rappresentati da Raffaello e poi quest'ultima di questa serie qui abbiamo l'autoritratto di Dürer con un gioco che però è scopertamente paoliniano nel senso che qui abbiamo un artista che guardava se stesso ha rappresentato se stesso in questa foto di Thomas Truth diventa l'oggetto dello sguardo di un visitatore o il visitatore diventa l'oggetto dello sguardo dell'autoritratto di Thomas Truth ma a me serviva questa immagine anche come raccordo a questa vediamo se facciamo partire il video Vito Acconci 1971 la stessa data della verifica di Hugo Mulas anche lui con una pettinatura un po' cristologica come Dürer ma non era questa la ragione per cui volevo fare il passaggio che cosa fa Acconci utilizza il video allora abbiamo visto la prospettiva all'interno dell'opera pittorica la prospettiva come meccanismo ottico riportato all'interno della fotografia la prospettiva nel video c'è qualcosa però che cambia qui abbiamo un artista che punta il dito verso teoricamente di noi però mentre Vito Acconci girava questo video succedeva qualcosa che ad esempio il cinema non gli avrebbe mai offerto di fare non gli avrebbe mai dato la possibilità di fare cioè di vedere la propria immagine in feedback all'interno del circuito chiuso per vedere se l'avesse girato in 16 mm per vedere l'effetto che faceva Vito Acconci avrebbe dovuto far stampare la pellicola proiettarla e vedersi come spettatore come lo vediamo noi mentre faceva questa performance Vito Acconci utilizzando il video aveva il monitor di controllo che adesso anche nel cinema si usa ma a quel tempo era soltanto del video e puntava il dito contro se stesso ben consapevole che nell'allungare il dito verso il centro delle diagonali prospettiche ed era una scelta molto precisa in quel centro toccava allo stesso tempo il dito dell'immagine di se stesso rappresentata nel video del monitor di controllo e al posto di quell'immagine ci sarebbe stato l'osservatore una volta che l'opera fosse giunta nello spazio espositivo per cui noi possiamo scegliere come dire di distendere il nostro braccio verso Vito Acconci e creare questa strana triplice clessidra e metterci al suo posto e reagire adesso il passato che lui provò all'interno del suo studio per inciso a proposito di tocchi di mani e di contatti tra le immagini è chiaro che Acconci oltre ad alludere tintolandolo centers cioè centri al centro prospettico è chiaro che sta anche strezzando l'occhio alla volta della cappella Sistina qui abbiamo un buon tempone che ci dice che nell'osservarsi e nel rimandare lo sguardo c'è l'immagine principe sacra della rappresentazione c'è un'altra cosa che fa il video ma per farvi vedere che cosa combina il video in questo campo di questa relazione tra oggetto tra osservatore e osservato mi serviva di nuovo Magritte lo sto un po' usando brutalmente però questa copia proibita che ci mostra un'osservazione di spalle che non si dà o comunque insomma non si dà nel tempo presente nella continuità dimensionale del presente lo si può dare se uno fa una fotografia della nostra schiena e poi ce la ce la mostra invece il video lo fa e questo è il videocorridor di Bruce Naaman voi non vedete niente mi scuso ma queste sono le riproduzioni che si trovano e è un corridoio all'interno del quale è un'opera molto famosa forse la conoscete all'interno del quale il visitatore entra e all'ingresso del corridoio c'è una telecamera quella telecamera manda trasmette le immagini a circuito chiuso sul monitor più alto mentre nel monitor più basso gira un video registrato del corridoio vuoto senza nessun visitatore che cosa succede? una cosa molto semplice il visitatore avvicinandosi verso i monitor per come dire istinto naturale si va a vedere che cosa c'è che cosa ci sta mostrando l'artista si avvicinerà alla ripresa di se stesso di spalle ma più si avvicinerà cioè più cercherà di vedere meglio com'è la propria schiena prima ancora forse di capire che si tratta della propria schiena e più vedrà meno perché l'immagine rimpicciolisce perché il visitatore si sta allontanando dalla telecamera che sta che sta alle sue spalle e il video diciamo gli video artisti hanno fatto questo hanno chiamato in causa questo questo meccanismo più di una volta ancora prima di Bruce Namlon questo è un esperimento del 69 di Ira Schneider in cui all'ingresso di una mostra dedicata proprio alle nuove tecnologie nel campo dell'arte come vedete le riprese non so se proprio lo vedete ma insomma le riprese erano davanti agli ascensori che portavano poi nello spazio espositivo per cui gli visitatori venivano ripresi nel momento in cui entravano nel building e poi salivano su e quando salivano su per una dilazione temporale molto probabilmente avrebbero visto che cosa? Loro che entravano all'interno dell'edificio diciamo la ricaduta molto più contemporanea di questo tipo di occhio da sorveglianza si è avuto con tantissimi artisti io vi ho messo soltanto un esempio su cui neppure mi soffermo ma è un'opera che era la Biennale di Venezia del 99 con questa chi l'ha detto alla cameriera in cui si vede questa specie di ripostiglio delle persone di servizio di un albergo che oltre a contenere asciugamani rotoli di cartigenica e cose varie contengono anche dei monitor di controllo attraverso i quali questa ipotetica cameriera che si identifica con l'artista guarda e racconta le storie all'interno di un albergo da diciamo complesso della sorveglianza complesso della sorveglianza vi faccio due ultimi esempi che sono quelli più contemporanei che sono stata capace di trovare questo è un Jeremiah Day che era presente come performance a Torino non più di una settimana fa e ci interessa perché Day ha fatto una lunga ricerca di archivio su questo senatore statunitense che si chiamava Frank Church che ha avuto una certa rilevanza perché è stato come dire preveggente su tanti capitoli della cultura occidentale uno di questi era sicuramente la sorveglianza che l'FBI conduceva sugli stessi cittadini americani e coincidenza ha voluto vedete l'opera del 2012 è che Jeremiah Day ha iniziato a lavorare a quest'opera la quasi ultimata quando è scoppiato il caso lo scandalo di Wikileaks perché ve lo metto perché anche qui è un'opera troviamo un'opera che è costituita da elementi assolutamente oggettivi e storici come ad esempio i servizi televisivi con Frank Church che dice non è accettabile che il governo americano spii i propri stessi concittadini eccetera e altre documentazioni molto più più raffinate e la performance corporea di Jeremiah Day io non lo so se è una grande opera l'ho appena vista ci sto ancora pensando ma di sicuro mi sembrava centrata perché la performance che lui fa è una trasposizione corporea attraverso la danza secondo la scuola di Simon Forti del discorso politico di Frank Church ora potete immaginare qualcosa di più se volete storicamente algido del discorso di un politico del 1970 che viene però trasmesso al pubblico attraverso questo schermo che è lo schermo dell'artista che accetta di danzare pensa immagina sente di dover danzare i concetti di Church insomma di nuovo l'artista diventa schermo di qualche cosa che gli arriva dalla più lontana estraneità e questa è l'ultima immagine ne ho scelta una ma ne avevo a disposizione decine di migliaia si tratta di Asan Elai che è un artista che io però non ho conosciuto attraverso i canali del mondo dell'arte ma ho appreso della sua esistenza attraverso le pagine di un libro di Albert Laszlo Barabagi uscito per Enaudis intitola Lampied è una teoria sulle regole che si incominciano ad intravedere come costanti del comportamento umano proprio attraverso le reti di informazioni le informazioni che ci vengono fornite dalle reti e qual è l'avventura di Asan Elai fu fermato anche perché era di origine medio orientale di pelle olivastra a Denver o a Detroit scusate ma comunque in un grande aeroporto americano fu fermato perché lui proveniva da dieci diversi punti nel cosme come succede ad alcuni artisti d'arte contemporanea era passato dall'Africa all'India aveva fatto una base in Cina poi finalmente era tornato negli Stati Uniti e adesso doveva raggiungere casa sua a Tampa e l'FBI dopo il 2001 dopo il crollo delle torri gemelle non poteva capacitarsi che questo fosse un comportamento normale doveva essere per forza un terrorista visto che poi aveva altri segnali e fu interrogato lungamente come succede ad un certo punto capisce che c'è un dossier precisissimo su di lui e sugli spostamenti di tante altre persone e quando finalmente l'agente dell'FBI dice no vabbè ho capito lei è davvero un artista non capisco che cosa fa non riesco a capirlo ma non importa lei è un artista può andare ed è Hazan che dice sì ma non è che io tra 15 giorni devo prendere un altro aereo non è che un suo collega mi ferma io ripasso per tutta questa trafila e l'agente dell'FBI dice ma in effetti il rischio c'è ed era anche un rischio vero perché quello era un momento in cui le persone anche sparì cioè dalla stanza di interrogatorio negli aeroporti finivano anche in alcuni centri di detenzione allora dice faccia così le do il mio numero di telefono mi informi sui suoi spostamenti da questa richiesta dell'agente nasce un lavoro infinito in cui lui compone il suo stesso dossier e registra momento per momento su internet in quel indirizzo che vedete i suoi spostamenti le cose che vede carica fotografia decine 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 come se stesse dicendo sono qui sto facendo questo mi state spiando ma ve lo racconto prima io e qual è la cosa importante la conclusione meravigliosa di Barabagi è che l'artista ancora questo trickster se volete come Hasan e Lai sono gli unici elementi che non coincidono con la teoria degli spostamenti e dei comportamenti che lui aveva potuto elaborare osservando infiniti dati di spostamenti nel mondo prendendo infiniti dossier di persone del loro comportamento Barabagi ci dice che ci sono delle regole si incominciano ad intravedere delle regole come se noi fossimo delle molecole non lo so ecco ma succede che c'è qualche eccezione e questa eccezione dov'è? nella soggettività dell'artista come Hasan e Lai grazie 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 grazie